Vuoi vendere o acquistare casa? La terza immobiliare affiliata a Quadrifoglio Immobiliare è la soluzione giusta per te! Chiama lo 065342091, manda una mail a quadrifogliomonteverde.com oppure su Facebook nella pagina Quadrifoglio Monteverde. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come tre anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno, non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente.